Ma puoi permetterti tutti questi viaggi adesso che non hai più uno stipendio fisso? Fatti una sporta di cazzi tu hai No scherzo, ora ci facciamo due passi e vi racconto tutto Sono in montagna perché sono venuta a trovare mia zia Dai Lappone, ma come sei bella Non si sentono le voci qui, vero? Si che si sentono Si sentono? Come stiamo, sapete? Ho pensato di approfittare di questo paesaggio super bellissimo Per fare una passeggiata e darvi un pochino di aggiornamenti su come sta andando il mio percorso Dato che sono passati esattamente 4 mesi da quando ho lasciato il mio lavoro in ufficio Per buttarmi al 100% su questa avventura di Youtube Di qua non si può camminare quindi direi che noi andiamo di là Su Instagram mi avete fatto un sacco di domande su questo tema Quindi cominciamo dalla prima che era un po' a tema ufficio Quindi che cosa mi manca dell'ufficio, se mi manca qualcosa La risposta è assolutamente sì, mi manca qualcosa Direi che la cosa che più mi manca in assoluto è l'aspetto di socializzazione Perché il lavoro invece che faccio adesso è molto più seditario Cioè sono io che giro video, io che li edito, io che li pubblico I miei successi sono miei, i miei fallimenti sono miei Però non c'è nessuno intorno con cui condividere il percorso E cerco di ricreare quella situazione perché ho altri 2-3 amici abbastanza stretti Che lavorano da freelancer oppure in ufficio ma possono fare tanto smart working Quindi a volte tipo a casa mia creiamo una specie di co-working Quanto sta fruttando YouTube e quanto tempo dedico alla produzione dei video? Pochissimo e tantissimo Sta fruttando zero per il momento perché ho ancora troppi pochi iscritti E troppe poche ore di visualizzazione per poterne fare a tutti gli effetti un lavoro Quindi al momento ne sto prendendo un euro da YouTube Quanto tempo però mi serve per fare i video? Tantissimo Per il momento è lavoro gratis Però lo vedo assolutamente come un enorme investimento per costruire È qualcosa che mi piace tantissimo fare E soprattutto non è mai, quasi mai, uno sforzo particolare per chi mi piace proprio Comunque volevo dirvi che lì ci sono gli orsi L'altra sera ho chiesto a mia zia dove potessi andare a fare due passi Che fosse magari un percorsino carino per girare il video E lei mi ha detto Se fossi in Dananzo andrai perché l'anno scorso hanno ripopolato tutti i boschi qua Con gli orsi Se vedrete questo video non sono stata mangiata da un orso Sempre più vicini agli orsi Ti ho scoperto tramite Marcello Ascani cosa fai con lui Allora, ad agosto Marcello ha pubblicato un video in cui diceva che cercava un assistente Quindi ho mandato il curriculum, ho fatto il colloquio E ora sono ufficialmente l'assessente di Marcello Ascani Quindi lo aiuto con tutti i suoi spostamenti logistici, prenotazioni, cose varie Lo aiuto con la pianificazione dei video per il canale Lo aiuto con altri progetti che in questo momento non si possono dire a persona top secret E non mi licenzia E lo aiuto con tutta l'area business e Tube Mastery Che è il corso che ha fatto su come diventare youtuber Questo si collega anche ad altre domande che mi avete fatto Quindi ora riprendiamo la passaggiata e vi racconto meglio Ma non sarebbe stato molto più fico se avessi risposto alla domanda da quassù? Ho sbagliato tutto Next question! Quali sono le mie fonti di guadagno? Come ho iniziato a lavorare la freelancer? E quanto guadagno? Tanto fondamentalmente è tutto un'unica sfera Allora io avevo un piano Che non è andato come pianificato In realtà è andato meglio Quindi non ho intenzione di lamentarmi Il piano era lasciare l'ufficio a fine ottobre Avevamo messo da parte abbastanza soldi Per stare bene un anno senza guadagnare un euro di niente Di zero di niente In realtà Marcello ha pubblicato l'annuncio per l'assistente ad agosto E a settembre io ho saputo che mi aveva assunto Quindi settembre ottobre sono stati i mesi un po' infernali Perché avevo il mio canale youtube Il lavoro in ufficio E il lavoro per Marcello Però ne è valsa la pena Perché comunque appena finito l'ufficio Io avevo già una fonte di entrata Che era quella di Marcello Questo ha fatto sì che anche tutti i miei progetti Di avere altre fonti di entrata Tipo progetti da freelancer su Fiverr Andassero un po' tersi perché in realtà non mi serviva più così tanto Sbattermi anche per avere altre forme di entrata Quindi per rispondere alla domanda Come ti sei organizzata con le varie forme di guadagno da freelancer Piattaforme eccetera La risposta è ho avuto tanta fortuna Perché la cosa di Marcello è capitata nel momento giusto Nel modo giusto E mi ha dato assolutamente molta più stabilità e serenità Di quello che pensavo che avrei avuto Poi ci sono sicuramente alcuni altri lavoretti da freelancer Che vanno e vengono Però sicuramente Marcello è la cosa principale Riga ma quanti bellino Come gestisci l'equilibrio fra lavoro e tempo libero? Quale tempo libero? Era una battuta ma non lo era No di tempo libero ce n'è veramente poco Ma la cosa bella è che Nel momento in cui ho lasciato il mio lavoro in ufficio Questo paradigma di c'è il lavoro e c'è il tempo libero È abbastanza stato eliminato Nel senso che in questo momento Faccio un lavoro che mi piace talmente tanto Che non sento il bisogno di dire Ah questo è il mio lavoro Poi stacco e quest'altro è il mio tempo libero Come vedete sto facendo una passeggiata È super piacevole Sto da Dio ma ne sto approfittando anche per girare un video Ho trovato un mix Sto trovando un equilibrio Per far sì che il mio lavoro Entri nella mia vita privata E viceversa Perché YouTube è questo Cioè nel senso io vi porto anche all'interno di Esperienze mie personali All'interno di viaggi che faccio All'interno della mia vita e delle mie giornate Quindi se non fossi risposta A mescolare il mio tempo libero con il mio lavoro Probabilmente non farei YouTube La cosa un po' complicata di questa cosa qui È che ogni tanto è difficile trovare un equilibrio A me YouTube piace talmente tanto Che non vorrei mai staccare E invece è importantissimo Che io trovo dei momenti In cui faccio anche altri Non sempre è facile trovare questo equilibrio Non solo quando fai YouTube Ma quando fai qualunque lavoro In cui non hai un capo E non hai degli orari fissi Perché se quel lavoro ti piace È difficile capire qual è il confine Perché ogni volta che stacchi E ti metti a fare qualcos'altro La tua testa ti dice Però se lavorassi un altro po' Potresti raggiungere ancora più obiettivi O potresti far venire quel video ancora più fico Potresti perfezionare quella cosa lì Quindi penso che il limite sia nel capire Che insomma non sono una macchina E che ogni tanto mi devo fermare Ciao cavallini Citone cavallini Bene Come giustisci le vacanze Che immagino siano tipo i viaggi La risposta è molto connessa a quella di prima Quindi in realtà non c'è molto da aggiungere I viaggi sono una parte super integrante del mio lavoro In realtà più viaggio Più riesco a portarvi contenuti interessanti Perché se stessi sempre ferma nella mia cittadina Dimenticata da Dio Probabilmente avrei anche poco da raccontarvi Quindi per esempio Ora sono venuta a Canazzei A trovare mia zia E ne sta uscendo questo video Che comunque sicuramente è più bello girato qui Piuttosto che nella mia camera da letto Quindi insomma viaggiare Mi permette di fare esperienze Che vi posso raccontare Se invece quello che intendevate nella domanda Era come vi giustisco economicamente parlando Ovviamente non mi posso permettere Di fare dei mega viaggioni adesso Posso permettermelo entro certi limiti E in maniera sempre molto calcolata L'unico viaggio che ho fatto Che mi ha costato tanto E sicuramente era fuori budget È stato il viaggio on the road In giro per l'Europa E ho fatto anche un video In cui vi ho raccontato quanto ho speso Ma quello è stato un viaggio particolare Ed è stato un po' Un festeggiamento della fine dell'ufficio Nel mio quotidiano I viaggi che organizzo Sono sempre molto a basso budget Tipo adesso Sono a casa di mia zia Quindi non sto spendendo niente per l'alloggio Andrò a sciare solamente un giorno Perché sciare costa tantissimo A fine gennaio andrò a Londra Ma a Londra c'è una mia amica che vive lì E quindi vado a trovare lei E il volo mi costa letteralmente 10 euro Andare 10 euro e tornare Ho intenzione di fare anche viaggioni più grossi Questo può rispondere anche a un'altra domanda Che mi avete fatto Se ho intenzione di fare vlog dagli Stati Uniti Sì mi piacerebbe un sacco Ma vabbè a parte che ora Non si può andare negli Stati Uniti Però se e quando si potranno fare viaggi più grossi Vorrei assolutamente farli E soprattutto lo farò in maniera tale Che siano super funzionali per il canale Così che non è solo una vacanza a caso Ma è effettivamente un qualcosa che mi porterà contenuti Che vi possano piacere Lo so che volete sapere quanto guadagno Un scherzo No scherzo Allora guadagno al momento Tra Marcello e Lavoretti Vari Freelancer Circa 600-650 euro al mese Che ovviamente non è tantissimo E non è sostenibile Però è come vi ho detto prima Di più di quello che io pensavo che avrei guadagnato Perché mi ero organizzata Per non guadagnare un euro per un anno Quindi in realtà sto andando alla grande E questo mi sta dando un sacco di respiro Per strutturarmi il mio lavoro con YouTube E farlo crescere in maniera organica Sana, serena E facendo effettivamente progetti che mi piacciono E non dovendo correre per fare 1200 milioni di views Questo però non vuol dire che mi faccia schifo Quando mettete mi piace ai miei video Hai intenzione di cambiare il paese Per avere un regime fiscale più agevolato? No Almeno non ora puoi mai dire mai nella vita Boh, no Una cacchietta Non so perché nei miei video Alla fine ci sia sempre della cacca Allora la prossima domanda Sei più successata a livello economico Non avendo più un'entrata fissa Ni No nel senso che più o meno I miei 600-650 euro Tutti i mesi ce li ho Ed è molto meglio di quello che pensavo Sarebbe successo Però sì Perché ovviamente non è sostenibile Cioè Devo cominciare a un certo punto A guadagnare qualcosa dal canale YouTube Perché altrimenti Non posso continuare a guadagnare 600 euro Sto erodendo i soldi Che avevo messo da parte dall'ufficio Che è ok Era nei piani Quindi cosa cosa non mi mette particolare ansia Però insomma A un certo punto Dovrò arrivare a guadagnare da YouTube Però sì Boh Cioè pensavo sarei stata molto più in ansia Soprattutto perché sono una persona abbastanza ansiosa Forse ho più ansia sotto altri aspetti Cioè l'incertezza in generale Di non sapere come andranno le cose Piuttosto che L'ansia di non sapere Se sto facendo bene o male su YouTube Perché quando non hai un capo Che ti dice Questo va bene Questo va male Questo sì Questo no È molto più bello per quanto mi riguarda Ma anche è molto più stressante Perché devi imparare a essere tu il capo di te stesso E imparare per quanto mi riguarda Anche a dirmi brava ogni tanto Che è una cosa che non faccio mai Quindi da questo punto di vista Sì È molto più stressante di prima Bene Siamo arrivati all'ultima domanda Anzi all'ultime due Ma sono condensabili in una Cioè Una è Se non andasse bene con YouTube Che cosa faresti E l'altra è Dove ti vedi fra cinque anni La risposta proprio più onesta possibile Trasparente Chiara e genuina È io ho sempre avuto un piano A, B, C, D, E, F, G Fino alla Z nella vita Perché sono una persona tendenzialmente ansiosa Questa è la prima volta nella mia vita Che non ho un piano B È la prima volta che davvero sento Che io voglio fare YouTube Perché mi piace talmente tanto Che non riesco a immaginarmi a fare niente di diverso da questo Mi permette di esprimermi Mi permette di fare un lavoro creativo Mi permette di viaggiare Mi permette di avere la libertà Che ho sempre voluto avere Quindi dove mi vedo fra cinque anni Spero realizzata Spero fare YouTube A livelli alti Se ancora mi piacerà fare YouTube Perché nella vita si può cambiare idea Se YouTube andasse male Non lo so Penso che mi siederai un attimino Fra un paio di anni E direi bene Questa cosa non è andata Che cosa voglio fare Ora rega c'è Il telefono congelato Lo stabilizzatore congelato E io congelata Quindi direi che è il momento di tornare a casa Mancano ancora un paio di chilometri Grazie mille per aver guardato questo video E spero vi sia piaciuto Perché è un video un po' più chiacchierato del solito Però ci tenevo a fare Questo momento di aggiornamento E raccontarvi un pochino come sta andando Ci vediamo al prossimo video E tanti baci Grazie mille per aver guardato il solito